L'arco del Campo Vaccino si erge come uno degli edifici meglio conservati del Foro Romano. Questo fu costruito nel 203 d.C. dal Senato in onore dei dieci anni del regno dell'imperatore Settimio, ma soprattutto per commemorare la vittoria dell'imperatore e dei suoi due figli, Caracalla e Geta, contro i parti nelle spedizioni militari del 185-197 d.C. L'arco era posto nel lato nord-ovest del Foro, affare da pendante ideale all'arco di Augusto, anch'esso dedicato alla vittoria partica e, con l'arco di Tiberio e il portico di Gaio e Lucio Cesare, costituiva uno dei quattro accessi monumentali alla piazza forense. L'arco di Travertino e Mattoni è rivestito interamente in marmo. Sulla sua superficie sono incisi dei rilievi, che ricordano le vittorie in battaglia dell'imperatore, in Partia, Iran-Iraq e in Arabia. Nell'arcata principale sicuramente passava una strada, di cui però non resta traccia. Sulla parte esterna ha quattro pilastri per facciata, che poggiano su basamenti sopraelevati. La decorazione è ricchissima e comprende due riproduzioni del dio Marte, sulle chiavi di volta dell'arcata centrale, mentre i rosoni della volta sono tutti diversi. Sempre sull'archivolto ci sono le vittorie late, quei rispettivi trofei, e ai loro piedi i geni delle quattro stagioni. Nelle chiavi degli archi minori sono invece rappresentate le divinità, Marte, Ercole, Libero, Virtus e Fortuna, anche se oggi resta traccia soltanto dalle rappresentazioni di Ercole. Sugli archi involti di queste arcate minori c'è la rappresentazione di quattro divinità fluviali. Nella parte superiore degli archi si può notare un breve freggio, in cui è raffigurata la marcia trionfale degli imperatori, che compiono sacrifici ad Ercole e a Bacco, ai quali assiste Giulia Pia, mogli di Severo. Sui basamenti delle colonne, invece, nei tre lati visibili, sono riprodotti cortei di soldati romani che conducono una processione di prigionieri parti, traccarli trainati da cavalli e da buoi. Tuttavia, la parte decorativa più rilevante ed innovativa è caratterizzata dalla presenza di quattro ricchi pannelli, dalle dimensioni di 3,92 x 4,72 metri, che sovrastano gli archi minori ed in cui trovano l'affigurazione delle campagne di Settimio Severo in Mesopotamia contro i parti, organizzate in fasce orizzontali da leggere dal basso verso l'alto. Sulla faccella di un'antica moneta che raffigura l'arco e che risale al 204, si può notare che nella parte del minone dell'arco troneggiava una quadriga bronzia in cui erano rappresentati gli imperatori. Le figure sui piedistalli, rimaste interrate fino al 1803, sotto terra, sono le meglio conservate. Inoltre, in alto, su entrambe le due facciate, è visibile ancora oggi l'iscrizione che dedicava l'arco a Settimio e i suoi due figli, Jete e Caracalla. Lo scopo di questa iscrizione era prevalentemente propagandistico, anche se a causa delle numerose abbregazioni usate, era poco comprensibile ai cittadini, che davanti a queste indecifrabili parole, rimanevano stupefatti e al tempo stesso affascinati dalla superiorità del proprio imperatore. Questo testo, dunque, serviva a celebrare la potenza di Settimio, ottenuta in seguito alle due vittorie contro i parti, e a quella dei suoi due figli, ai quali l'imperatore riconosceva pari meriti. Ma alla morte del padre, il figlio Caracalla uccise suo fratello Jete e, condannandolo alla damnazio memoriae, cancellò ogni sua traccia storica. Questo lo si può notare, oltre che dall'iscrizione, anche da questo tondo, in cui è evidente che la faccia del piccolo Jete sia stata del tutto rimossa. Ora, passiamo ad analizzare l'iscrizione vera e propria. Lettere e gli altri caratteri dei testi gemelli, come i segni, per separare una parola dall'altra, e i numeri romani, erano originariamente in bronzo dorato, quelle che le fonti antiche denominano lettere auree. I caratteri, secondo quanto si evince dalla loro omogeneità, oltre agli scarsissimi resti di fusione residui, in questo caso furono ottenuti mediante colate in stampi di fusione e non dall'amide tagliate e saldate. Le lettere così realizzate erano inserite in fori o alveoli abbastanza profondi, rimandendo in tal modo al livello del piano verticale marmorio. Ad oggi è proprio grazie a questi alveoli, aventi la stessa posizione per le stesse lettere, che, in seguito ai fori di Tartantichi, è ancora possibile comprenderne il testo. Infatti, alla lettura definitiva del testo, nel 1902, grazie alla posizione di questi incavi, è stato possibile individuarne la frase, coperta dalla quarta riga, quella dedicata proprio a Geta. La dedica è strutturata su sei righe e si apre con un trionfo di dativi, ovvero con una serie di parole abbreviate che concordano con il nome dell'imperatore, anch'esso in dativo, poiché è oggetto della dedica commissionata dal Senato. Nella prima riga, infatti, sono riportate tutte le cariche ricoperte dall'imperatore, prima di tutto definito imperator, ovvero comandante che ha vinto la sua battaglia. Poi gli viene accostato il nome Cesare e Augusto, oramai titolo onorifico per gli imperatori. Inoltre, viene qui specificata la sua provenienza, il nome di suo padre, Marco Pio Pertinace. Nella seconda riga ha inserito un altro famoso titolo onorifico, Padri Patrie, ovvero Padre della Patria, e vengono ricordate le sue due note vittorie con i parti, sia nella penisola arabica, partico arabico, sia della Siria, partico adiabenico, da Adiabene, provincia della Siria. Inoltre, in questa stessa riga, viene definito Pontefice Massimo, la massima carica religiosa, Console per la terza volta, Proconsole, ed in possesso della tribunicia Potestas per l'undicesima volta. Nella terza riga, la dedica viene indirizzata a suo figlio Caracalla, che, proprio come il padre, è affiancato da una serie di titoli onorifici, tra cui quello di Padre della Patria, aggiunto da lui in tempi successivi e in modo abbreviato per il mancato spazio, ed è in possesso anche lui della tribunicia Potestas, ma da meno anni. Nella quarta riga ci sarebbe dovuta essere la dedica per l'altro figlio, Geta, ma fu fatta scalpellare da Caracalla al fine di cancellare definitivamente il ricordo del fratello, da un monumento pubblico. Lo spazio vuoto fu colmato con una caratteristica che accomuna entrambi gli imperatori. L'iscrizione termina con la motivazione della dedica da parte del Senato e del popolo romano, quindi con un complemento di dedica e di luogo che specificano che queste loro magnifiche gesta sono avvenute sia in patria che all'estero, sia in pace che in guerra. Si conclude il testo con la famosa abbreviazione SPQR, Senatus Populusque Romanus, ovvero i committenti della dedica. Inoltre, proprio come si è scoperta la frase dedicata a Geta nella quarta riga, grazie alla posizione degli alveoli è stato possibile individuare anche altre parole scolpite sul monumento. Infatti, Engel Ventura è riuscito a decifrare la frase sottostante all'iscrizione, ovvero Divo Severo Pio Ex Senatus Consultu, con la quale si voleva evidenziare la superiorità dell'imperatore e il merito del committente, che come si capisce dalla sigla utilizzata anche nelle monete romano imperiali, è proprio il Senato. Grazie a tutti.